un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo oggi ci troviamo qui proprio accanto alla foresteria ecco c'era una piccola diciamo finestrella questo era il parlatorio dove padre pio qui si intratteneva insieme ad alcune figlie spirituali oggi qui per raccontarvi e leggervi uno straccio di una lettera che padre pio scrisse il primo febbraio del 1913 padre pio si trovava a pietrelcina come ben sappiamo in quegli anni una strana malattia non gli permetteva di stare in convento quindi lui viveva in famiglia non a casa sua ma in un altro in un'altra abitazione accanto alla casa natale di padre pio a pietrelcina e qui scrive a padre agostino scrive qualcosa di 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 forte così come andiamo sempre a rileggere all'interno dell'epistolario numero uno quei cosacci dice a padre agostino ultimamente nel ricevere la vostra lettera prima di aprirla mi dissero di strapparla ovvero di buttarla nel fuoco se ciò facevo si sarebbero ritirati per sempre e così non mi avrebbero più molestato io me ne stetti muto senza da loro risposta alcuna pur disprezzandoli in cuor mio allora soggiunsero noi questo lo vogliamo semplicemente con una condizione per la nostra ritirata tu nel far questo non lo fai come disprezzo a qualcuno ricordalo risposi loro che nulla sarebbe valso a smuovermi da questo mio proposito e allora mi si scagliarono addosso come tante tigri affamate maledicendomi minacciandomi che me lo avrebbero fatto pagare padre mio hanno mantenuto la parola da quel giorno mi hanno quotidianamente percosso ma non mi atterriscono non ho io in gesù un padre non è vero che io sarò sempre figlio suo lo posso dire sicuramente che gesù non si è mai dimenticato di me anche quando ero da lui lontano egli col suo amore mi ha seguito dappertutto gesù mi dice che nell'amore è lui che diletta me nei dolori invece sono io che diletto lui ora desiderare la salute sarebbe andare in cerca di gioia per me e non cercare di sollevare gesù sì io amo la croce la croce sola l'amo perché la vedo sempre alle spalle di gesù oramai gesù vede benissimo che tutta la mia vita tutto il mio cuore è votato tutto a lui e alle sue pene grazie a tutti Grazie a tutti.